Come sempre a quest'ora dobbiamo dare la parola a lui, il dono. Sì, ma bisogna andare a Napoli per essere allegri. No, però aiuta. Però serve Don Antonio, dai. Va bene, ma insomma cerchiamo di stare allegri anche a me. Ma certo, grazie, è ovvio. Quando ti sentiamo siamo allegri noi, quando ti sentiamo. Dobbiamo stare allegri perché siamo ancora nella settimana della festa della mamma. Va bene, quindi non parliamo di calcio, parliamo di cose belle. Ecco la frase, impariamo a fare festa ogni sera attorno alla tavola. Facciamo, capito, capito, care mamme? Forte e chiaro. Va bene, ciao, 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 ciao e viva l'Italia.